Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale Veri ASMR Grazie per aver scelto questo video rilassante Oggi sono abbastanza emozionata perché come vedete alle mie spalle c'è l'albero di Natale appena completato Con tante lucine colorate e soprattutto uno gnomo Forse non vedete bene perché ho girato leggermente l'albero verso il muro Comunque mi fa troppo ridere Ho cercato di intonare i colori delle decorazioni dell'albero a resto del set Che come vedete in questo momento è rosa e giallo, oro Ma il set come vi ho già aggiornato non è ancora finito Comunque questo video è una collaborazione con YesStyle Che ha organizzato un'iniziativa bellissima per Natale Cioè il Secret Angel Che da noi in Italia credo si chiami Papo Natale Secreto Il gioco consiste nello scambiarsi un regalo di Natale Però in modo casuale il mio Secret Angel o comunque Papo Natale Secreto È una ragazza che fa ASMR E il nome del suo canale è Natira ASMR Vi lascio giù nell'info box qualche riferimento Mi è arrivato quindi un pacco regalo contenente tantissimi prodotti di YesStyle Che come sapete è un sito sul quale trovate principalmente skin care coreana Per me è molto utile per quello E faccio continuamente acquisti da YesStyle per quanto riguarda la skin care coreana Ma non solo Potete trovare praticamente di tutto Abiti, accessori e anche oggetti per la casa Giù nell'info box vi lascio il mio codice sconto Per visitare il sito di YesStyle E se volete fare degli acquisti potete risparmiare Io a mia volta sono stata il Papo Natale Secreto di qualcun altro Ma non so di chi Io mi sono orientata verso oggetti Kauai Però ho ricevuto invece una box contenente prodotti dal tema Minimal & Chic E adesso andiamo a spacchettare il tutto insieme Ti consiglio come al solito per ascoltare questo video Di tassare le cuffiette oppure gli auricolari Di distenderti in un posto comodo E se non l'hai ancora fatto Di iscriverti al canale Cliccando naturalmente la Cappanilina Inoltre lascia un mi piace a questo video per supportarmi E iniziamo Ok ragazzi c'è veramente un sacco Un sacco di roba Prima di iniziare vi voglio assolutamente ricordare Che se ancora non avete fatto il vostro regalo di Natale E cercate un'ispirazione C'è la possibilità di prendere ancora per poco Su Amazon Anche con l'opzione Prime se volete La mia agenda ASMR Ve ne ho parlato E straparlato però È davvero un progetto al quale tengo tanto E quindi Sono tanto orgogliosa di averla realizzata E ringrazio tanto tutti gli artisti Del panorama ASMR italiano che mi hanno aiutata Troverete le loro voci all'interno delle patine E anche la casa editrice Polignani naturalmente Che mi ha permesso di poterla proporre e distribuire Questa agenda contiene tanti contenuti interattivi E vi fa conoscere l'SMR sotto tanti punti di vista Quindi va benissimo Sia per gli appassionati Sia per chi magari ancora non sa nulla di questo mondo E infatti alla fine c'è un glossario Con i termini più importanti Che vengono usati nel mondo ASMR E tante esperienze per provare ASMR Con nuovi trigger Pagine da toccare, colorare, ritagliare In più Questa è un'agenda dedicata al self care Quindi al benessere personale Vi dà un aforisma Un pensiero felice ogni giorno Che funziona un po' come una frase motivazionale E niente Spero davvero che seguiate il link giù in info box E che ve ne aggiudicate una anche voi Nel caso lo facciate Grazie E non dimenticate di taggarmi le vostre storie E direi di partire da Questa busta triggerosa Con il Blu Ribor Tra l'altro io vedo con voi per la prima volta Questi prodotti Quindi Sarà una sorpresa anche per me Allora questo pony effect E' un set di pennelli piccolini da viaggio Credo per il make up Adesso vado a scartarlo Nel frattempo volevo ringraziare tutti voi Che mi avete dato dei consigli Su come sistemare meglio l'inquadratura Spero di aver fatto Una cosa Abbastanza in linea con i vostri consigli Avvicinandomi un pochino Comunque è tutto work in progress naturalmente E devo Fare varie prove Ah carinissimo Vedete ci sono i pennelli piccolini da viaggio Color oro rosa E anche l'astuccio Sempre dello stesso colore Passiamo al secondo oggetto Il secondo oggetto è una palette Per gli occhi Una palette di ombretti credo E infatti dietro ci sono scritti i nomi degli ombretti Mascarpone Burnt Coral Dangerine Soda Tatling Moon Tirami Su Toffee Candy Crunch Bomb Chestnut Cinnamon Toast E Sugar Drop Carinissimi Andiamoli a scoprire Wow Queste tonalità mi piacciono moltissimo Sono praticamente dei nude Però c'è anche qualche corallo Qualche rosa Con dei glitter Ma rifiniscere Ma rifinisce Vedete Uno champagne Questa la proverò assolutamente Magari in uno dei prossimi video vi farò sapere com'è Si chiama Street Brick Pro Eye Palette Di Clio Professional Ma non ci fermiamo Questo unboxing sarà veramente infinito Allora abbiamo qui un rossetto La linea Stylenata Lip Color G3E Non so se è riuscito a vedere ma Ok forse si E il colore è Smoked Rose Oh che bel packaging Ah è una specie di color Mattone in realtà Non somiglia a un rosa Vero? È un rosso mattone Non ha nessun odore Particolare Qualunque Da provare Io naturalmente adesso vi mostro Tutti i prodotti un po' velocemente Però Magari se c'è qualcosa che vi interessa In particolare Facciamo un video Proprio dedicato E vi ricordo che giù nell'info box C'è il mio codice sconto Che potete utilizzare Per fare acquisti Da YesStyle I prezzi sono molto molto convenienti Quindi secondo me vale la pena Utilizzare anche il codice sconto C'è un profumino Che si chiama Charming Jasmine Un profumino roll on E sono Curiosa Vedete le scritte in coreano dietro Sono curiosa di sentire la fragranza Guardate che bello Che buono Profuma di È un profumo fiorito Però Sa anche Di limone È una nota Agrumata Tipo bergamotto Limone Buono Poi Qui abbiamo due oggettini Di pigiotteria Questa Questa deve essere una collanina Con un serpente Vedete questi Degli anelli forse Ah si Questa ha un set di anelli Carinissimi Alcuni sono Quadrati E alcuni sono A sezione rotonda Vedete Mentre questa Mentre questa Questa è una collanina Con Un Serpentello Ah questa mi piace Moltissimo Ok eccola È l'ora di Provarla indossata Bellina Poi 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 No abbiamo anche In questa busta Degli Sticker Che non so che cosa servono In realtà Forse per Colorful salt Regular stickers Salt Non lo so Ragazzi Fatemelo sapere voi Ho notato che Alcune buste di plastica In cui sono contenuti Questi oggetti Fanno un po' troppo Rumore Quindi Preferisco farvi vedere Gli oggetti Senza le buste Quando Questo succede In questo caso Si tratta Di una bag Con questa Figura È un po' strana Non molto nel mio stile Devo dire Però Si può sempre utilizzare Per fare la spesa Che ne dite Sembra un tessuto Molto resistente Ah e soprattutto Ha la cerniera Che mi sta molto comoda E anche una casca interna Vedete Quindi Si La utilizzerò Per andare a fare la spesa Poi 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 Dentro Allora Allora Questo è Taglia È invece scritto Io in realtà porto una S Però Vediamo Ah carino Cavoli Questo sì che è Steampunk Se mi seguite su Instagram Avete visto Una delle mie foto Recenti Qui intosso Un corpetto E una Gonna Luca Forse sapete che Sto cercando di Acquistare qualcosa Che abbia un po' Uno stile appunto Steampunk Questa Questa mi sembra Molto carina Forse è abbastanza Adatta Che vedete Ma devo provare Indossata Ovviamente Magari Vi metto una clip Se ci riesco Fa anche un bel suono Come vi dicevo Sul sito Potete trovare Anche oggetti Di abbigliamento Quindi è veramente Molto molto interessante Dateci un'acchiata Se ancora Non l'avete mai visitato E ricordatevi Il codice sconto Che vi lascio Giù in infobox Che può essere Sempre utile Oh Altro pacchetto Non so voi Ma io adoro Questi video Di unboxing E Nel farli Mi sento Una bambina piccola Super morbido Questo È tipo Una Sciarpa Credo Grossa Sciarpa È di un colore Beige Nude Quindi Va bene Da mettere Praticamente Su tutto Io vesto Spesso Di nero O comunque Di grigio O anche Bordeaux Predilico Diciamo I colori Un po' Più scuri Quindi Questa Per spezzare Va benissimo Credo Si chiami Color Cammello Forse Vedete Ad essere calda Sembra molto calda Ma più che altro Mi sembra perfetta Per fare dei Fabric Sounds Ha queste frange sotto Vedete Ditemi se volete un video con questo Perché Mi sembra veramente Molto Triggeroso Dunque Penultimo Oggetto È Questo Cappellino A dire il vero Mi sembra un po' Grande 100% C'è scritto Vediamo un po' Ah no Ok Non è grande Va bene Ma non credo sia molto invernale In realtà Mi sembra più Mezzo tempo Questo Vedete Come mi sta? Sto cercando di guardarmi Dall'anteprima Ma Non capisco bene Stavo cercando proprio In questi giorni Un cappellino Ma In realtà Lo immaginavo Molto più in linea Con lo stile steampunk Che vi ho detto A proposito Se conoscete qualche Rivenditore Di abiti Di quel tipo Fatemelo sapere Scrivendomelo Già nei commenti Ok Non era il penultimo Ma il terzultimo Perché ho trovato Quest'altra cosa Questa è una Felpa C'è scritto Hello Okinawa Ah no Non lo so È tipo Gigantesca Questa felpa Io sono piccolina Non lo so La userò come pigiama La farò vedere Indossata Ma è veramente Super larga Credo sia Un pigiama Tra l'altro Sì Cioè Non credo sia Una felpa Per uscire Dal tessuto Mi sembra Proprio molto calda Se avessi potuto Scegliere io Il tema Della box Avrei scelto Sicuramente Quello Kawaii Che infatti Ho scelto Per la persona Per cui poi ho fatto Il regalo Che non so bene Quale sia E finiamo Con L'ultimo oggetto Stranissimo Che è Ragazzi Una specie di becola Cos'è Sembra Tipo Un cappottino Un po' sportivo Ok Ce l'ho fatto Sì sì Questo è un cappottino Ve lo farò vedere indossato È particolare Non ho Cappotti Di questo tipo Però penso Che lo userò E poi Vabbè A cavaldonato Non si guarda In bocca Ragazzi Cerco di mettervi Assolutamente Delle clip Con I vari Oggetti Che posso indossare E niente Ragazzi Siamo arrivati Finalmente Alla fine Di questo video Io spero Che vi sia piaciuto Se è così Fatelo sapere Con un like E guardate Sempre nell'info box Dove c'è La mia lista Di desideri Di amazon Se volete Contribuire A fare un regalino Tira smr Per questi regali E immagino che mi vediate In giro Su qualche altro canale Perché qualcuno Appunto Riceverà La mia box Che è Misteriosa Io vi mando Tanti 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 bacini Fatosi E noi ci vediamo Come al solito Se viva Nel prossimo video Ciao Ciao